Monsignere Speca, questa situazione di Terramo 3.0, alla luce anche delle ultime dichiarazioni di Christian Francia, dell'associazione Terramo 3.0, continua a creare imbarazzo all'interno del Consiglio Comunale. Al di là che si vociferano l'esistenza di documenti o meno contro questo gruppo, voi attualmente qual è la vostra posizione? La posizione credo che sia molto semplice, cioè il Comune di Terramo dopo un lungo periodo di intenso lavoro è arrivato con un passaggio pubblico a presentare quello che è l'atto fondamentale della vita del Comune e credo che è un risultato che dovrebbe essere rivendicato dall'intera amministrazione, in particolare da tutte le forze di maggioranza. Strumentalizzare un risultato che nel merito e nel metodo risulta particolarmente lodevole per questioni di piccolo cabotaggio politico credo che risulti dannoso innanzitutto per questa amministrazione e in secondo luogo per la maggioranza. Bisogna rimettere al centro la nostra attività senza strumentalizzare alcuni passaggi e senza soprattutto saper rivendicare il giusto merito alle attività e al lavoro svolto da ciascuno di noi. Ci sarà anche una riunione del gruppo consigliare del Partito Democratico a breve anche per risolvere alcune questioni interne. Ripetiamo, insomma, si andrà questa verifica di maggioranza anche se ci sono delle situazioni interne da risolvere nel Partito Democratico? La verifica di maggioranza io credo che è una scelta che aspetti prima di tutto al Sindaco. Il Sindaco in questo momento, come tutti noi, siamo impegnati a condurre in porto il bilancio che è un passaggio essenziale e fondamentale per la vita di questa amministrazione. Ogni valutazione sarà fatta nel momento giusto, nei termini opportuni, senza fare polemiche, senza fare ovviamente proclami pubblici, soprattutto senza polemizzare in una maniera del tutto sterile. E le polemiche tra le pilotti? Ma guardi, non ci sono polemiche, semplicemente... Visioni diverse? Sì, è una questione solamente di... ovviamente il partito oggi è composto da un gruppo giovane, in primis dal sottoscritto, che ha la prima esperienza amministrativa. Credo che sia opportuno anche trovare un giusto equilibrio interno per dare maggiore efficacia all'attività che vuole portare il partito e il gruppo consigliare all'interno di questa amministrazione. E su Terramo 3.0, ripetiamo, ci sarà un'azione di forza, tra virgolette, comunque? No, l'azione di forza non c'è, ovviamente sono delle riflessioni che noi vorremmo condividere anche con il sindaco, nei tempi e nei modi più opportuni. Riflessioni che comunque saranno poste all'esito ovviamente di una valutazione interna al partito democratico. Ma io credo che queste valutazioni debbano essere sottoposte all'attenzione di tutta la maggioranza. Ripeto, non sono toni minacciosi o di epurazione. È semplicemente chiarirci, dandoci un metodo condiviso su, soprattutto, gestioni all'esterno sull'operato di questa amministrazione.